Officina Bonacina, produzione a disegno di tiranti e tirafondi. L'officina utilizza acciai da costruzione e inossidabili che provengono da acciaierie italiane e quindi con certificato EN 10025 3.1. Produce inoltre staffe e cavallotti speciali con tondo sino al diametro 36. Utilizzando macchine a CNC, torni e centri di lavoro, si producono prigionieri, bulloni e madreviti a disegno. Prerogativa dell'azienda è sempre stata la qualità puntuale, attestata dalla clientela storica e dalla certificazione EN ISO 9001-2008.